I leccesi che affolano questi stand sono la conferma di una scommessa vinta. Torna ad animarsi in questo ponte dell'Immacolata la Galleria Mazzini, nucleo della lecce commerciale penalizzata in passato da interventi non proprio incisivi per valorizzarla e renderla sicura e fruibile, e più di recente dal boom del centro storico che ha catalizzato progetti e iniziative lasciandola nell'ombra. La Galleria del Gusto, tre giorni declinati tra enogastronomia, musica, arte e intrattenimento anche per i più piccoli con Magico e il villaggio dei bambini, è una coraggiosa manifestazione anticrisi promossa dall'Associazione Culturale Elice e da eventi con il sostegno di Comune, Provincia, Camera di Commercio e IACP. In questo momento in cui il sistema economico ci sta un po' comprimendo, non voglio dire ci sta lasciando morire, ma ci sta comprimendo avere una reazione, uno scatto di regni non fa male. Tra gli stand col meglio della produzione locale di vino, olio, miele, scapece, dolci tipici, il percorso si arricchisce di soste tra i lavori in mostra di sette artisti salentini cullati dalle selezioni musicali e dei momenti di spettacolo. Il rapporto diretto oggi con l'utente non è più come una volta andai in un negozio e comprivi qualcosa che non sapevi. Oggi i nostri artigiani riescono anche a spiegare la bontà del prodotto, come viene, come viene e questa è la carta vincente secondo noi. L'auspicio è che queste luci e il calore dell'atmosfera natalizia facciano da traino al rilancio delle attività della Galleria e dell'intera parte moderna della città. Speriamo in futuro che queste sinergie producano altre iniziative e soprattutto che anche le istituzioni facciano sinergia per un bel progetto di riqualificazione.